Il nuovo Panigale è una sorta di rivoluzione nel mondo della bicicletta sportiva perché è basato su un concepto completamente nuovo, il Superquadro che rende un tipo completamente nuovo di performance per una twin stiamo considerando 195V che è un benchmark completamente nuovo per una twin-cylindra che competisce al stesso livello con il 4-cylindro e non solo performance ma anche un esforzo molto forte per la riduzione di peso la bicicletta finisce con 164 kg di peso che è il risultato di una completamente nuova struttura il nuovo engine è pronto in condizioni di rivoluzione non solo potere e riduzione di peso ma molti sistemi elettronici per rendere questo potere e questo peso facile da usare e facile da accettare la bicicletta può essere utilizzata con ABS con controllo di traccia con elettronico con un sistema elettronico di sospensione che cambia il settore dependendo del modo di rivoluzione e altri sistemi che rendono possibile per divertire questa bicicletta in modo sicuro e facile da accettare con i connessi e per l'imperature